perché stavano per scadere i 24 secondi tant'è è andata bene primo vantaggio per Bergamo dall'altra parte Giavonte Green va in penetrazione porta la palla Fernandez si smarca Gianna Elize che poi va a giocare in Picaroy proprio con l'argentino ancora Gianna Elize 5,5 metri con Green c'è San lontano da lui riceve Fernandez Picaroy con Bowers alla fine Giavonte Gianna Elize lui a provarci da 3 punti risultato per l'italiano argentino che serve Cavaliero Cavaliero contro Sanna il blocco di Gianna Elize raddoppiato Cavaliero cerca di liberarsi in qualche maniera serve Giga Gianna Elize che si prende il tiro dalla media va a segno Brandin per Baldasso il palleggio il blocco di Bowers Baldasso scarica su Gianna Elize palla che gira su linee esterne Gianna Elize si butta dentro prova l'arcobaleno e ha ragione sempre Fernandez il passaggio per Gianna Elize sotto canestro viene raddoppiato da Bozzetto poi con il reverse in and out ancora Gianna Elize che racconta Gianna Elize Solano vuole l'isolamento e la fine prova il tiro da 3 punti che sbatte sul primo ferro rimbalzo di Cavaliero ancora Cavaliero l'assist per Gianna Elize sotto canestro un assist 76-72 Trieste più 4 per l'Alma agenzia per il lavoro 2 minuti e 20 da giocare ricordiamo Trieste ha eserito il bonus ma ci prova con Gianna Elize da 3 punti grazie a tutti